buongiorno ragazzi buongiorno allora oggi parleremo di iPad perché ieri c'è stata la presentazione del nuovo iPad presentazione l'hanno presentato ma non c'è stata la conferenza ci sarebbe dovuta essere la conferenza a marzo come ogni anno ma Apple chiaramente l'ha dovuta cancellare causa forza maggiore allora fondamentalmente questo iPad è molto simile a quelli che abbiamo già visto ma ha dei dettagli che sono delle scelte progettuali molto interessanti infatti oggi andremo ad analizzare quelle a vederle insieme quindi sigla non una sigla allora chiaramente esteticamente è sempre il solito lo conosciamo molto bene l'iPad Pro è molto molto bello un prodotto assolutamente super elegante sottilissimo leggerissimo iperpotente e questo lo sappiamo già parliamo della vera novità dell'iPad che è questa tastiera con il trackpad infatti in tutti i video viene mostrato con questa tastiera questo è molto interessante perché ci fa capire che l'iPad sta diventando effettivamente un computer un computer come lo conosciamo tant'è che la tagline il motto che utilizza nell'ultimo video è your next computer is not a computer questo è molto interessante Apple non è la prima volta che cerca di venderci l'iPad come un computer e vi segnalo se ve li siete persi due spot molto molto belli che aveva lanciato in America che probabilmente in Italia non sono arrivati il primo si chiama Homework racconta la storia di 5 ragazzini che devono fare un compito in classe e fa vedere come lo riescono a realizzare con l'iPad facendo vedere anche quello che permette di fare un computer di nuova generazione piuttosto che un portatile come lo conosciamo noi e il secondo invece video è molto molto bello ve lo consiglio e il secondo invece si chiama underdogs che fa vedere la storia di alcuni dipendenti che devono presentare un'idea al proprio capo tra l'altro piccola curiosità l'idea che presentano è una scatola della pizza circolare loro dicono se la pizza è circolare perché la scatola è quadrata quindi cercano di creare una scatola circolare questo questo progetto è un progetto realmente esistente brevettato da Apple da un dipendente tantissimi anni fa e quindi è appartenente realmente è proprietà intellettuale di Apple molto molto interessante quindi come dicevamo l'Apple sta provando a venderci l'iPad come il computer di nuova generazione e lo fa tramite un video che ci spiega come in modo quasi ironico come va utilizzato un computer gli anziani come me si ricordano che c'erano delle delle regole per esempio non toccare lo schermo dicevano se tocchi lo schermo si rovina l'iPad è fatto tutto sull'esperienza del tocco ci sono tutti questi confronti tra l'esperienza di prima e quello che adesso l'utilizzo del computer e ti fa notare che è cambiato tutto un altro esempio per firmare un documento importante prima dovevi scaricare il documento stamparlo firmarlo scansionarlo e rimandarlo nel video fa vedere che la ragazza firma il documento direttamente da lì questo è molto figo l'iPad è davvero un dispositivo straordinario eccezionale e questo lo sappiamo tutto vero tutto molto figo quello in realtà che a me non piace che mi fa un po' storcere il naso è il fatto che abbiano presentato questa tastiera col trackpad non è tanto il trackpad il problema penso che abbia creato delle complessità proprio nell'utilizzo del dispositivo l'esperienza con l'iPad è un'esperienza flessibile anzi l'iPad nasce per non avere un senso lo puoi usare in verticale lo puoi usare in orizzontale lo puoi girare come lo giri funziona sempre funziona sempre bene se tu aggiungi una tastiera fisica stai dando un senso a queste pad vuol dire che in alcune app ti trovi con dei problemi di usabilità per esempio io sto scrivendo in orizzontale con la tastiera se ho fatto un errore di battitura come faccio tocco lì e poi scrivo qui è un po' complessa come cosa poi se tocco lo schermo si muove lo devo staccare oppure se devo se devo firmare una cosa lo stacco firmo poi se devo riscrivere e l'app in verticale uso la tastiera verticale e poi se in orizzontale lo riattacco insomma si creano delle complessità di usabilità un po' un po' fastidiose e la cosa più fastidiosa è che Apple aveva una visione molto chiara per quanto riguardava le tastiere tant'è che il primo iPhone venne presentato al pubblico con la grande innovazione di non avere la tastiera era un momento storico in cui tutti i competitor avevano delle tastiere anzi molti molti di questi spingevano per una tastiera qwerty addirittura quindi una tastiera dove ogni tasto ha una lettera Apple ha contrastato quest'idea con una visione completamente opposta la tastiera noi la togliamo perché la togliamo perché si sono resi conto che la tastiera è dinamica la tastiera occupa tanto spazio e quello spazio lo puoi utilizzare per altre cose la tastiera non la devi usare sempre la devi usare solo in alcuni contesti ed è giusto che appaia solo quando è necessario e come dicevo la tastiera è dinamica perché cambia di lingua in lingua di paese in paese cambia da app in app in alcune app puoi utilizzare hai bisogno dei numeri piuttosto che delle lettere alcune app hai bisogno dei simboli il futuro della tastiera è digitale è una visione che ha molto senso e allora perché Apple è andata contro la sua visione? c'è un senso ovviamente c'è un motivo e cercheremo di capirlo insieme qualcuno chiaramente potrebbe dire adesso che non c'è Jobs ci può essere un conflitto di visioni ma in realtà è molto più probabile che per comunicare questo messaggio dell'iPad come un nuovo computer hanno dovuto creare un'estetica dell'iPad che ricordasse un computer e adesso con una tastiera e un trackpad molte persone lo vedranno come computer poi non per forza compreranno anche la tastiera perché si renderanno conto che non serve necessariamente o si renderanno conto che l'utilizzo che fanno del computer in realtà non richiede una tastiera che è molto probabile fisica si intende quindi concludendo io sono molto d'accordo su questa idea l'iPad secondo me è il computer del futuro se l'utilizzo del vostro computer comprende mail, internet e musica l'iPad va alla grande anzi certe cose le fa addirittura meglio di un laptop, di un portatile e costa anche poco nel senso che è decisamente accessibile rispetto a un portatile, un qualsiasi altro portatile io qualche anno fa in realtà 5-6 anni fa regalai a mia madre un iPad mia madre non ha mai utilizzato un computer e non sapeva utilizzare un computer non sapeva utilizzare un mouse e il mouse in realtà per quanto possa essere semplice come interfaccia era molto complessa perché dovevi fare un movimento qui che muoveva un puntatore e il puntatore dovevi farlo andare sull'icona che ti serviva e cliccare in realtà è molto complesso mi ricordo che quando lo comprai tutti i miei amici mi dissero no ma sei pazzo hai preso un touchscreen non capirà mai è troppo complesso dovevi prendere un netbook netbook soldi buttati eccetera eccetera per fortuna è stata una mossa decisamente lungimirante perché adesso lei breve è una macchina da guerra lo utilizza ogni giorno da tantissimi anni apre il suo Duolingo studia francese fa le sue lezioni è totalmente autonoma e questo ha permesso il dispositivo era talmente semplice che ha permesso anche a mio padre di avvicinarsi che anche lui non aveva mai utilizzato un computer io per adesso sconsiglio l'utilizzo l'acquisto di un iPad solo a chi fa un uso professionale del computer e per professionale intendo utilizzi dei software che attualmente non esistono su iPad ma sappiamo che già da quest'anno in realtà già dall'anno scorso con l'arrivo di Photoshop Procreate quest'anno arriverà Illustrator molti professionisti molti grafici inizieranno a spostarsi sull'iPad e questo è una figata perché è un'esperienza molto più flessibile molto più fluida davvero cambierà tutto poi col fatto che puoi utilizzare la penna puoi scrivere puoi disegnare puoi schiacciare per i designer sarà rivoluzionario sarà un'esperienza completamente diversa per chi utilizza il 3D come me dovrà aspettare ancora un po' ma stanno arrivando stanno arrivando la domanda adesso probabilmente è un'altra questo iPad visto che viene venduto come un computer viene spacciato come un computer non rischia di essere un competitor interno di Apple? in realtà no perché si tratta di target diversi sia in termini di età che come prezzi perché l'iPad tecnicamente parte da un prezzo decisamente più accessibile rispetto all'altro ai laptop ma soprattutto se l'iPad diventasse il computer del futuro e i ragazzi iniziassero a comprare l'iPad come computer principale per la scuola Apple sarebbe molto contenta perché il Mac ha della concorrenza l'iPad no quindi questo è molto molto interessante un'altra cosa che mi hanno chiesto perché non hanno messo questa visto che hanno presentato questa tastiera col trackpad perché non l'hanno messa insieme all'iPad perché sono due cose diverse non vedete la tastiera come un pezzo necessario mancante all'iPad la tastiera è un pezzo aggiuntivo che potete scegliere di comprare non la prendete come pezzo che manca perché l'iPad ha già la sua tastiera e la sua esperienza utente come la penna in realtà non sostituisce il dito la penna è un dispositivo solo per un'utenza specifica solo per chi disegna e soprattutto aver scorporato la tastiera dall'iPad permette ad Apple di mantenere un prezzo molto basso quindi una barriera all'ingresso decisamente più accessibile per quanto riguarda il trackpad anticipavo prima è un passo avanti perché prima con la tastiera fisica che poteva essere acquistata separatamente con l'iPad se scrivevo e facevo un errore di battitura dovevo tornare col dito su magari muovevo lo schermo era un'esperienza complessa scrivo, tocco, scrivo, mi sposto adesso faccio tutto qui quindi l'esperienza viene giù e io guardo su su praticamente non tocco nulla tocco nel momento in cui lo stacco e quindi è un passo avanti in termini di esperienza riguardo invece l'estetica di questa tastiera è molto interessante perché è assolutamente è sottilissima, è essenziale e ci sono degli elementi che sono molto interessanti la tastiera ha due cerniere una nel cilindro centrale che permette all'iPad appunto di aprirsi all'iPad appunto di aprirsi e l'altra è un piccola cernierina che sono molto curioso di vedere dal vivo che non so come fa mantiene l'iPad e non so forse sarà anche magnetica ma è microscopica quello è molto interessante a livello ingegneristico un dettaglio che non mi ha fatto impazzire non è brutto però forse conoscendo quello che ha fatto Apple in passato poteva fare meglio sono degli stopper quindi dei livellini degli spessori in gomma che servono appunto a impedire all'iPad quando tocca il cilindro in metallo di rovinarsi questi stopper potevano avere un'estetica diversa un po' più nascosta un po' più discreta l'Apple ha la grande capacità di riuscire a nascondere tutte le parti più complesse e funzionali dietro l'estetica per esempio nei computer nei laptop nei portatili tempo fa ma suppongo che a molti ce l'hanno ancora adesso ci sono degli spessori in gomma in alto l'Apple questi spessori li aveva nascosti creando una cornice intorno a tutto lo schermo in gomma in modo che una necessità funzionale era diventato un dettaglio estetico nei Mac non vedi questo spessore in gomma negli altri computer sì quindi secondo me potevano fare qualcosa di un po' più raffinato magari una fascia una fascia anziché due quadratini due rettangoli oppure non lo so potevano continuare con una parte circolare non lo so ci poteva fare qualcosa in più forse però non è male chiaramente il prezzo è molto alto parte da 350 euro fino a 399 euro però in questo canale non commentiamo tanto i prezzi è una scelta di posizionamento dell'Apple probabilmente perché l'iPad più la tastiera arriva ad un prezzo concorrenziale con gli attuali prodotti altre cose da dire siccome ho detto tutto sono cose più o meno tecniche perché è fluttuante questo iPad è un po' più avanti non è come l'altro probabilmente perché il baricentro è più avanti e quindi rischia meno di cadere dall'altra parte se ce l'ho sulle gambe niente ho detto più o meno tutto spero che questo video sia stato interessante ci sono un po' di confronti molto interessanti da poter fare col Surface però perché offre delle caratteristiche simili scelte progettuali totalmente diverse non c'è un meglio e non c'è un peggio sono scelte progettuali completamente diverse ma magari faremo più avanti quando finalmente parleremo di Microsoft spero a cavallo di un futuro annuncio niente spero che il video sia stato interessante noi ci vediamo presto e voi statemi bene buona quarantena ciao